Altro caso a Giarre di incuria e degrado urbano, ad un passo dal centro storico percorrendo tutto Corso Lombardia in direzione Giarre Cireale, ci si ritrova alla fine della strada una villetta che potrebbe fungere da polmone verde dell'aria in questione ad alta densità di popolazione e invece la zona si è ridotta e è stato di totale abbandono. Diverse le segnalazioni giunte alla nostra redazione dei residenti esasperati dalla situazione inaccettabile in cui versa la zona. Appena giunti sul posto si viene travolti da un odore insopportabile che con l'aumentare delle temperature estive non farà altro che peggiorare la situazione. Come vediamo dalle immagini, la villetta accoglie sotto gli alberi e nelle uole gli spalci ormai secchi prodotti da una precedente potatura, ma sono soprattutto le erbacce alte, gli escrementi degli animali portati a spasso nella villetta senza munirsi di necessari guanti e sacchetti per ripulire la zona sporcata dal proprio cane e i rifiuti di varia natura abbandonati nel parco a formare un vero e proprio tappeto di immondizia che rende la villetta una discarica a cielo aperto. Anche l'unica panchina del parco è stata vandalizzata, ma l'area verde fa anche da passaggio per i residenti che devono raggiungere gli appartamenti alle spalle del parco e lo stato di degrado in cui versa diventa ancora più preoccupante nelle ore notturne perché la zona non è ben illuminata e piante, siepi, incolte ed erbacce formano un vero e proprio muro che occulta il passaggio e favorisce gli illeciti. Contattato telefonicamente, l'assessore al verde pubblico Giuseppe Durso ci ha spiegato che la villetta, come altre, è interessata da pulizia ordinaria e straordinaria, ma che come per le altre zone di Giarre si ha difficoltà a trasportare gli sfalci della scerbatura per la carenza di motoape. E si deve fronteggiare la situazione programmando gli interventi che non possono avvenire simultaneamente. Con l'ufficio tecnico, però, è stato programmato un giro di raccolta e si provvederà a breve, forse anche in settimana, a ritirare i residui della potatura nella villa in questione. Capiamo, continua Durso, che il servizio non è ad hoc, però ci stiamo programmando perché le aree a verde a Giarre sono davvero tante e al momento non possiamo che procedere così. Il problema, però, è legato anche ad un fatto culturale, perché il decoro urbano passa dal buonsenso e dalla coscienza civica dei cittadini. Gli sporsi da parte dell'amministrazione sono tanti e una cosa che ci piacerebbe sarebbe donare alle associazioni la cura di alcune zone a verde. Per questo abbiamo già iniziato degli incontri con le associazioni. Potremmo avere la possibilità di avviare gli orti urbani curati dalle associazioni. In tal modo i giardinieri comunali dovrebbero curare un numero minore di zone e potranno farlo sicuramente meglio, ha concluso l'assessore Durso.